Pittura, scultura e film, una varietà di media e performance che l'artista Jessica Warboys trasforma in un viaggio fuori dal tempo. Un viaggio, un percorso che incomincia con un occhio, che è qui alla mia destra, e finisce al secondo piano con un altro occhio. Aultrops, inaugurata presso Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno, è un racconto popolato da oggetti, scolpiti e dipinti, attori di un film ispirato dalla storia e dalla mitologia. L'installazione della teologia dei tre film, Boudicca, Pajanrol e l'ultimo Hills of the Dream, è nata un po' anche dalla volontà di aprire degli squarci, delle grandi finestre su un paesaggi e nature altre, altre dimensioni, altre realtà, sia geografiche sia temporali. Casa Masaccio, centro per l'arte contemporanea, sostiene la ricerca artistica di nuovi linguaggi, un luogo in continua trasformazione e sede di riferimento per il suo territorio. È un modo per affermarsi anche all'interno della Toscana, il circuito toscano dove Casa Masaccio rappresenta comunque uno dei punti di riferimento e ci permette di attivare delle collaborazioni e io spero siano collaborazioni che daranno frutto anche in futuro a nuove iniziative di questo genere, nuove mostre e la possibilità di presentare altri giovani artisti come Jessica Warboy.